E' partito nei giorni scorsi da Atri il mini-tour programmato da Sinistra Ecologia e Libertà all'interno degli ospedali della provincia. E' necessario risolvere le criticità e mettere fine alle politiche restrittive operate negli ultimi mesi con i vari atti aziendali, affermano i rappresentanti del partito, tra cui il deputato Gianni Melilla, i tagli subiti dall'UTIC, da psichiatria, medicina nucleare e da urologia, hanno causato gravi difficoltà sia ai pazienti che al personale. SEL si batterà in tutti i livelli istituzionali affinché l'ospedale di Atri rimanga un polo di ampia utenza, baluardo pubblico del diritto alla salute e del servizio sanitario. Questioni molto importanti quindi che animano il dibattito a livello regionale anche alla luce delle risorse a disposizione di ciascun presidio ospedaliero. Nei prossimi giorni a tal proposito verrà presentata una relazione più approfondita con lo scopo di tracciare delle prospettive per l'ospedale. Oltre a Melilla hanno partecipato alla visita il consigliere regionale Franco Caramanico, il consigliere provinciale Giuseppe Di Febbo, coordinatore della federazione di Teramo Tommaso Di Febbo, i consiglieri comunali Marta Illuminati Di Pineto e Carlo Thieri Di Silvi e i coordinatori di circolo di Atri Pineto e Silvi nonché diversi dirigenti del partito.